Torna un albero per la salute. L'iniziativa della Fadoi, società scientifica della medicina interna, in collaborazione con i carabinieri del Comando Tutela per la Biodiversità, prevede per il 2024 un'ulteriore donazione emessa a dimora negli ospedali italiani di 32 giovani alberi da parte dei carabinieri. Ogni pianta potrà essere geolocalizzata e sarà possibile seguirne la crescita su un sito web, monitorando in tempo reale anche il risparmio di CO2. Nel corso dell'iniziativa sono stati donati a due scolaresche degli alberi giovani per sensibilizzare i ragazzi all'educazione e alla tutela dell'ambiente. Il generale di divisione Antonio Danilo Mostacchi, comandante dei carabinieri per la tutela della biodiversità. Un albero per la salute si innesta nella più grande iniziativa nazionale del progetto, un albero per il futuro. Metteremo a dimora decine di migliaia di piante, non solo all'interno delle scuole di ogni ogni regrado della nostra nazione, ma anche presso gli ospedali e le strutture sanitarie del territorio nazionale per dare questo significativo contributo. L'arma dei carabinieri, i tarretti a Fadoi, per mitigare gli effetti, i temi infiniti e i cambiamenti di malattie. Il settore sanitario è responsabile di circa il 5% delle emissioni globali di CO2. Per questo anche gli ospedali sono coinvolti su questo versante, nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della salute collettiva. Ambienti sani ci aiutano a contrastare l'insorgere di malattie gravi, ha ricordato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Grazie.